Presentato a Palazzo Lanscheris il concorso di segna e racconta il cavallo, premio speciale Piemonte. Ideato e organizzato dall'associazione Passione Cavallo, è rivolto ai ragazzi fino ai 14 anni e si pone l'obiettivo di far conoscere l'animale ai più piccoli, stimolare la loro fantasia, allontanandoli per quanto possibile dalla dipendenza dai videogiochi e dai fenomeni di bullismo.